Coach, una bella vittoria qua a Cugno in un derby. Sentite per voi una serata davvero positiva. Se l'aspettava così bella la sua squadra? Me l'aspettavo così bella? Anche no, nel senso che dopo la partita con Firenze, dove sicuramente non abbiamo fatto una partita eccezionale. Non abbiamo giocato male, secondo me abbiamo purtroppo regalato nei momenti importanti e quindi alla fine il risultato forse è stato un po' severo, anche se Firenze ha meritato largamente. Stasera credo che abbiamo avuto una reazione, dopo una partita così siamo stati un pochino più cattivi in certi momenti che sicuramente ci ha aiutato. Cosa ha fatto la differenza tecnicamente questa sera? Come dicevo prima credo che sicuramente stasera abbia fatto la differenza al muro in certi momenti, credo che abbiamo chiuso 16 muri che sono veramente tanti. E poi come dicevo la battuta, siamo partiti all'inizio con una battuta un po' facile, un po' scontata, dopo abbiamo usato un po' meglio anche un'alternanza fra una battuta tirata e una battuta tattica che credo ci abbia sicuramente un po' aiutato in certe scelte. Una vittoria importantissima per voi in ottica del proseguimento del campionato? In ottica salvezza sicuramente sono tre punti molto importanti perché ci permettono di essere a nove, quindi è chiaro che puoi vincere alcuno, non credo che sarà una cosa semplice per nessuno, tantomeno da tre punti, quindi è chiaro che siamo molto contenti stasera, le ragazze ci hanno regalato un buon weekend.